Quindi una volta deciso di basare il mio sistema su un processore Intel ho dovuto di conseguenza prendere una scheda madre adeguata, quindi la prima cosa da controllare è la corrispondenza del socket, in questo caso il 1150, un socket più recente rispetto al 55 e che sta prendendo il posto del 1155 che pian piano andrà a sparire. Per cui scheda madre adeguata per il mio processore 4770K sono andato su una ASRock, in particolare la Z87 Xtreme 4. Che dire di queste schede madri? Allora, prima di tutto il formato ATX, se non siete abituati a vedere un formato del genere vi faccio solo presente che la scheda madre che ho preso messa di fianco al vecchio computer, che è un computer delle classiche dimensioni di quelli che trovate nei centri commerciali, nei negozi di elettronica insomma, Vi posso dire che la scheda madre solamente è quasi grande come tutto il computer, quindi un formato gigantesco, un formato molto grande che ci permette anche di avere diversi slot, di avere molto spazio per inserire schede video e RAM a volontà. Detto anche che si può trovare la Z87 Xtreme 6, prendo un Xtreme 4 sempre per una questione di budget, ma è comunque sia una scheda madre da paura. Una scheda madre come la Z87 è praticamente il sogno di qualsiasi gamer, le Z87 sono infatti schede madri pensate e pronte per l'overclocking del sistema. Posso portare fino a 4 banchi di RAM, ovviamente dual channel, in particolare 4 DDR3 da 2933 MHz, con un'espandibilità fino a 32 GB. In questo caso io metterò due banchi di RAM in dual channel, ma questo lo vedremo più avanti. Possiamo anche avere la possibilità di fare il ride di due schede video, quindi è assolutamente pronta anche per questa possibilità. Con tre alloggiamenti PCI Express 3.0, quindi offre assolutamente possibilità di espansione e di aggiornamento praticamente senza limiti. Anche in questo caso ho preso una scheda madre destinata a durare negli anni. Altre specifiche che potrebbero interessarvi sono per esempio le 9 porte USB 3.0 e le 2 porte HDMI, una in ingresso e una in uscita. Quindi direi che non gli manca assolutamente nulla.